Il Foggia cerca conferme al Viviani al cospetto di un Potenza imbattuto ma ancora secco di vittorie. Boscaglia ridisegna l'attacco fuori per Alta Vutai e Dursi, tridente, inedito, composto da Schenetti, Ogunzei e Nicolao. Cambi anche nel Potenza che si schiera col 4-3-3 con Caturano, supportato in avanti da Del Sole e Di Grazia. Pronti via, il Potenza è già avanti, l'ex di Grazia da sinistra mette in mezzo Caturano, spedisce dentro, sfruttando anche l'incertezza di Nobile. Fa festa il Viviani per il Foggia, la gara è già tutta in salita. Stentano a reagire i rossoneri, anzi è il Potenza al 22esimo, a rendersi di nuovo pericoloso con Del Sole, il suo sinistro è neutralizzato da Nobile. A vara di emozioni nella prima frazione, la gara cambia volto nella ripresa. Al 55esimo il Potenza ci riprova sugli sviluppi di un angolo, Nobile salva su un matino. Al 59esimo il Foggia pareggia, l'azione si sviluppa a destra, Schenetti raccoglie da posizione decentrata, indovina il diagonale che impallina Gasparini e rimette le cose a posto. Nel finale succede di tutto, al 78esimo Costa prova a sfruttare la supremazia degli ospiti, conclusione dalla distanza rimpallata e messa in angolo da Gasparini. All'81esimo il Foggia va in gol, ma la rete di Vutai è invalidata per la posizione di fuorigioco dell'attaccante albanese, subentrato nel frattempo a Ogunseie. Minuto 83, Nobile si fa perdonare, compie un'autentica prodezza. Sul colpo di testa di Girasole protestano i padroni di casa che chiedono il gol. La palla però, al momento dell'intervento del portiere, Rosso Nero, non ha oltrepassato la linea di porta. Passano pochi secondi e un altro subentrato, Belloni raccoglie e calcia. Il tiro è rimpallato dal braccio di Malomo per l'arbitro e calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Belloni, ma Nobile compie un altro miracolo ed evita il nuovo sorpasso della potenza. Continua la maledizione dal dischetto per i Lucani, al terzo rigore fallito in questo avvio di campionato. È l'ultimo vero sussulto della contesa perché dopo quattro minuti di recupero l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Quarto pari di fila per il Potenza, il primo per il Foggia che a fine gara incassa la delusione dei 500 al seguito della squadra.